Devo dire la verità, quando mi è stata proposta questo incontro avevo delle perplessità perché in fondo ho detto ma come mai la direzione mi sta ricordando che ho 66 anni, che devo appendere il cappello al chiodo, fatevi fatti vostri tra me e me ho detto, però poi tutto sommato ho cambiato idea perché la memoria storica è fondamentale trasmetterla quando dai il testimone ai più giovani e quindi eccomi qui, io per una conversazione stranissima a 23 anni ho incontrato l'RM a Torino in un'esposizione, in quella occasione ho conosciuto il signor Pozzalini che aveva necessità di espandere questo marchio di vernici in quanto era da qualche anno, solo da qualche anno nel mercato italiano e aveva necessità di una rivendita nel nostro territorio. La proposta commerciale di lavoro col territorio dell'RM era completamente diversa dalle proposte che venivano realizzate o proposte comunque dalle altre case, esisteva esclusivamente solo il barattolo della composizione del colore finito pronto all'uso si chiama e il sistema tintometro che proponeva l'RM nessuno lo conosceva, è stata insomma una bella scommessa, devo dire che questa scommessa è stata proficua perché in 4-5 mesi siamo riusciti a montare e a vendere perché allora i tintometri si vendevano, che bello, vi ricordo che costava 1.040.000 lire tutto il sistema, veniva venduto e poi fatto 12 rate mensili. Pozzalini in quell'occasione ci chiama a Milano e ci fa una proposta che di fatto non esisteva nella vendita RM, ci propone di aprire un'agenzia e creare nel territorio una sorta di rivendite, di diverse rivendite che proponessero o che vendessero il prodotto RM e questo ha dato dei buoni risultati creando 4-5 rivendite sul territorio, l'amministrazione mi ricordo la zia di tutti Silvana, non so se qualcuno se la riconosce, ma penso di sì, in Colone Ventia, che ne so, Loredano per esempio, che ci dava un supporto incredibile, mi ricordo i primi anni era metta fissa tutti i sabati noi ci trovavamo abbalanzate a discutere sulle formule, sui colori per cercare di trovare delle soluzioni concrete nel raggiungere gli obiettivi. E in questo l'ho lasciato per ultimo proprio perché per me è stato veramente un fratello maggiore, un caro amico, non so neanche come definirlo, che mi ha permesso veramente nei momenti più delicati di dare alla mia azienda e al prodotto che io trattavo, questo marchio di vernice RM, quell'input, quei ragionamenti, quelle strade che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato che si chiama Nazario, Nazario Quoto, che oggi non c'è più purtroppo, però è sempre nei miei ricordi. Questa è la storia vecchia, adesso c'è naturalmente, non è che finisce, la storia inizia e continua fino ai giorni d'oggi. La nostra azienda ha una fetta consistente di mercato, siamo in 18, gestiamo circa 170 tintometri nel nostro territorio e cercheremo e cercheranno chi ci sostituirà, cioè i nostri figli, di far sì che l'RM continui a essere vincente anche nel futuro. Abbiamo aderito subito a questa nuova maniera di vendere in carrozzeria, apportando, credo anche con il nostro supporto, qualche piccolo particolare che poi ha contribuito a lanciare l'RM, ad esempio la diversità era che prima il carrozziere andava in colorificio a prendere la vernice e noi abbiamo cominciato ad andare in carrozzeria noi a presentarci e dirgli che bisogna di qualcosa. Poi naturalmente c'era questa grossa novità che era un furgone allestito con il necessario per poter eseguire delle dimostrazioni in carrozzeria e inizialmente RM non era un'azienda, erano tre o quattro personaggi ambulanti che si accompagnavano a noi per fare delle cose. C'era un tecnico canadese che si chiamava Salami, che veniva con me in carrozzeria per provare a presentare il prodotto, c'era un laboratorio che era diretto da signor Elvig, al quale poi successe un nome che non ho sentito citare prima da Angelo, stranamente, Viganò, cazzo mi fai a parlare di Viganò che è stato, voglio dire, gioia e dolore. Personaggio molto carismatico, prendeva pedate nel sedere i carrozzieri, però sapeva quello che faceva, sapeva i posti, poi dopo tu hai detto Loredano, ok, Loredano era il suo vice, poi c'era un piccolo ufficio, ecco, questo era il RM. E lì ho cominciato, ad esempio, Nazario Cozzo che venne citato poi da Angelo, l'ho portato in azienda proponendogli di venire a fare il tecnico, di prestarsi con questo furgone e andare in giro. Con il furgone ne facciamo di tutti i colori perché il prodotto faceva, insomma, un po' acqua da tutte le parti, era il sistema che era quello alla grossa unità, il prodotto lasciava anche, aveva le sue lacune. E per farci, lavoravamo in coppia perché, ad esempio, usavamo una tinta, lui intratteneva il cliente e io controllavo la tinta se andava bene, se no facevo la correzione al volo con le competenze che aveva allora per riuscire a rappresentarla poi ed avere successo, insomma, cose di questo genere, non si facevano dei numeri veramente improbabili. E poi cominciando a lavorarci abbiamo cominciato a crederci perché innanzitutto venivano eliminati gli enormi stock di magazzino perché una volta come si lavorava c'erano 5-6 grossi fornitori, i carrozzieri avevano le loro preferenze e tutti dovevano tenere in casa 5-6 barattoli di ogni tinta, di ogni marca per soddisfare il cliente, decine di migliaia di litri di barattoli. Abbiamo incominciato a intravedere la possibilità di eliminare questa schifezza e abbiamo incominciato e si è presentato il primo problema, adesso questo per gli addetti ai lavori è chiaro, forse per chi non lo è è un po' meno chiaro, esisteva allora un aggeggio che si chiamava Color Book, un Master Book, Master Book forse, era un librone che conteneva le formule di tutte le tinte in circolazione, solo che gli addetti ai lavori sanno che una tal tinta, pur avendo una formula base, ha parecchie varianti e sul Master Book ce l'ha scritto variante 1, variante 2, variante 3, variante 4. Il primo problema che è emerso fu che il carrozziere ne faceva una e se non andava bene doveva provare l'altra, se non andava bene doveva provare l'altra, se era questo in congruenza, pur essendoci magari ciò che serviva era difficile riconoscimento. Allora io ho cominciato in un improbabile magazzino, per le tinte di maggior rotazione, a verniciarmi queste formule, trasformandole in piastrine colorate da sottoporre al cliente, già diciamo visibili, così che lui aveva la possibilità di scegliere direttamente qual era la tinta, risparmiando un mucchio di tempo e di lavoro e devo dire che con questa arma ho incominciato a fare clienti. E un giorno arriva un certo Tino Mengano, in laboratorio anche lui rompiava un po' le scatole, portava i pezzi da fare per vendere appunto colore in carrozzeria e aveva in mano una mazzetta con dei cartoncini spruzzati, perché si diceva ma io vado in carrozzeria, devo scegliere il colore sulla carta, non so cosa esce, andrà bene sulla macchina. Allora si era applicato, diciamo, le tinte più importanti, in modo che quando andava in carrozzeria, che c'era la macchina più popolare, tirava fuori il cartoncino, lo guardava sulla macchina, se andava bene pesava quella ricetta, se non andava bene prima di pesarla la correggeva un pochino e applicava sopprendendo sempre il carrozzere. E da qui è venuta l'idea di creare il primo sistema di colorimetrico che si chiamava Tinto Cars. Il Tinto Cars era diviso per case automobilistiche, quindi rappresentava le case più importanti, diciamo, la Fiat, Renault, Peugeot, eccetera, e avevamo fatto queste carte abbastanza grandi, in modo che davano l'opportunità al cliente di guardare bene il colore. Da qui, nel laboratorio, ho entrato a lavorare e diciamo che la nostra casa madre in Francia ci guardava un po' sott'occhio, non vedeva questa soluzione molto credibile. Dopodiché la richiesta è diventata sempre più ampia e ci è venuta l'idea, ma perché non fare un sistema, invece, sviluppare un sistema corimetrico, diciamo che abbracciasse più colori, quindi non più diviso per case automobilistiche, ma astratto, cioè per classe colore, quindi tutti i rossi, tutti i verdi, tutti i blu, eccetera, in classe colore. E da qui è nato praticamente il Solo Cars e il Diamond Cars. Solo Cars rappresentava i colori solo pastello e il Diamond Cars rappresentava i colori metallizzati. E a livello europeo ha cominciato a guardarci bene, specialmente la Francia, che era la nostra casa madre, a che ci chiamano e dicevano ma noi vorremmo fare adesso un sistema internazionale. C'era un problema, perché noi a livello qualitativo eravamo molto attenti, perché il Solo Cars e il Diamond Cars venivano fatti in Italia, presso un'azienda italiana che era sita vicino nei posti di Bergamo, erano tutti spruzzati manualmente e quindi controllate uno a uno. Facendo a livello internazionale il controllo diventa un po' più complicato. Comunque, se decide di fare l'area internazionale, qui nasce, quindi intorno al 1900, penso 80-90, il Color Master, il sistema Color Master, Color Master 2. Diviso anche qui per classe colore, solo pastelli e metallizzati. E' stato dato un impegno sempre all'Italia, grazie allo sviluppo che aveva avuto per questa idea, di controllare la qualità di produzione, perché non era tanto importante presentare il sistema, ma dare anche al cliente la garanzia che quando realizzava la ricetta che era stampata nel retrocaso della formula, che uscisse come il cartoncino che aveva in mano. E quindi, chi meglio del laboratorio italiano per fare il controllo anche a livello, prima europeo e poi mondiale, come responsabilità di qualità di produzione.